Musica Oltre 2.900 espositori con prodotti provenienti da 113 paesi del mondo, distribuiti su un'area di 150.000 metri quadri. AF, l'artigianato in fiera, mostra mercato dedicata all'artigianato di qualità, dal 30 novembre all'8 dicembre a Fiera Milano, ha visto protagonista anche la Puglia, con uno spazio espositivo dedicato a manufatti di pregio ed artistici come la cartapesta leccese, le ceramiche di grottaglie e le produzioni artigianari di Fasano, ma soprattutto con numerose aziende del comparto agroalimentare che, in un'atmosfera di festa e condivisione, hanno raccontato e messo in mostra la creatività dell'enogastronomia pugliese. La cosa che mi entusiasma in maniera particolare è che questi nostri piccoli imprenditori, questi nostri artigiani raccontano che il loro mercato, il loro fatturato è quasi totalmente un fatturato che interessa i paesi stranieri, l'80% del fatturato rappresenta una vendita in altri paesi, vuol dire che il nostro prodotto, il brand Puglia, continua a funzionare. Per farlo funzionare va internazionalizzato, va promozionato e noi, come sempre, riusciamo, almeno fino ad oggi, riusciamo a aiutare questi nostri produttori a far conoscere questo prodotto. A rappresentare l'identità, la storia e la tradizione enogastronomica del territorio, le prelibatezze tipiche della Puglia, i formaggi, il vino, i prodotti da forno, i dolci, le marmellate e soprattutto il sempre ricercato olio extravergine di oliva. Una bella manifestazione che fa tornare a casa contenti, sicuri che la Puglia ha ancora tanto, tanto da raccontare. Il prodotto principe della dieta mediterranea e quindi anche della Puglia è l'olio extravergine di oliva che ha avuto un ottimo apprezzamento. Ha valorato dal fatto che la nostra regione sta puntando molto sulle filiere agroalimentarie di qualità, infatti come Olificio Cooperativo di Ostuni siamo stati la prima azienda a ricevere il marchio prodotti di qualità Puglia che ci aiuta molto bene a diffondere la cultura del 100% made in Puglia. Un deciso clima di soddisfazione dunque tra le 33 aziende partecipanti, soprattutto per il grande successo di pubblico che nei nove giorni ha affollato il padiglione 4 ospitante la Puglia. Grande successo di pubblico perché riusciamo a fermare l'attenzione della gente qui nel nostro stand di quelli della bombetta perché spieghiamo che attraverso una bombetta, un boccone di capocollo di maiale c'è tutto un territorio, c'è il canestrato pugliese, c'è il pane di Altamura, ci sono delle produzioni incredibili, delle potenzialità che solo questa terra può esprimere.